Tanto quanto ne invidio, se tu arrivi su una Porsche miliardario e ci sono i poveretti lì che dico sei un mito, bellissima come Roma, guarda che è veramente incredibile il calcio però va bene, scusate un po' di realismo ogni tanto bisogna portarlo, prego Giuse questo è l'ingresso di Maldini che ha parlato, comunque c'è grandissimo entusiasmo, c'è l'apporto della curva è stato fatto anche il primo allenamento, vi devo dire che da quello che mi dicono, mi dice anche Stefano è rimasto ben impressionato dall'impatto di Adli Rebic è apparso molto volenteroso e quindi devo dire che la stagione comincia all'insegna di un entusiasmo che si era un po' perso, un po' per i mancati rinnovi o i ritardati rinnovi di Maldini e Massara un po' perché il mercato è andato molto a rilento e un po' secondo me perché c'è questo battaggio pubblicitario di estrema negatività attorno al Milan che secondo me è anche un filo troppo esagerato quando si parla del Milan, il Milan ha 40-50 milioni di budget, è troppo poco c'è chi deve partire da meno 60, chi parte da più 40-50 comunque rimane la negatività però detto questo oggi è una giornata importante, è un Milan che come ha spiegato anche Pioli avrà i ranghi completi comunque solamente fra un 10-15 giorni saranno al completo molti non si sono ancora presentati, Orighi sarà presente da domani, è un Milan che insomma è infarcito di giovani, ma chi è Tom Cruise dai che presentazione è questa? scusami un attimo, good morning, però c'è quest'aria positiva, Seba, Giuse di un Milan finalmente che sembra poter avere una forza sul mercato, anche le immagini che ieri abbiamo visto di con Zapata, perché poi si va lì, se si è intuito appunto che interessa molto i tifosi quanto può essere alla fine il budget, quanto può essere quello destinato alla campagna alla campagna, abbonamenti no, ma alla campagna acquisti, ma diciamo che il budget come avevo già detto è una cosa diciamo molto flessibile nel senso che è da considerare anche gli stipendi perché adesso a me in primis non risulta una trattativa avanzata per Di Bala, però facendo un esempio proprio se nel caso in cui il Milan decidesse di spendere tra virgolette per un giocatore anche a parametro zero, ma investire su di lui pagando un grande stipendio è chiaro che lì il budget si va a quanto meno ad assottiare, quindi vediamo un secondo a me sulle notizie riguardo il budget 40-50 milioni non sono arrivate con ferme comunque sì dovrebbe essere un pochino più alto, ma ripeto è molto molto flessibile Senti sì, ma Raimondi a Mediaset parlava di... Comunque scusa mia ma è veramente veramente figa la nuova maglia del Milan, veramente veramente figa bella, 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 anche con questa maglietta sì però anche con la bandiera nella manica, cioè dei bei dettagli mi sembra vabbè scusate poi peraltro c'è stata una piccola polemica perché non c'è lo scudetto su questa maglietta quando è stata presentata, quindi qualcuno ha detto che è stato un po' noto quel del Milan nel non pubblicizzare questa cosa, quindi dello scudetto Mica, ma c'è eFootball ragazzi come sponsor il Milan adesso? C'è anche un nuovo sponsor, nelle magliette d'allenamento c'è Konami Eh no no, eFootball è un po' il nuovo PS EFootball e Konami è la stessa cosa più o meno diciamo No, tra l'altro, scusami un attimo, perché leggevo in settimana, non so se lo sapete ma addirittura non è il primo ma la Supercoppa italiana si chiamerà E-Sport Cup quindi è già il secondo pezzettino sai quando dicono quei coglioni che giocano al gaming? Eh pian pianino quei coglioni lì vedete che cazzo stanno facendo comunque scusa Sebak, ho sentito su Mediaset una sessantina di cui metà destinati a Decathlon c'è qualcosa di vero in questo? Guarda, in questo momento Decathlon è solo, diciamo, fortissimo interesse perché al Milan interessa molto io l'ho detto, la trattativa davvero in corso in questo momento è quella di Zia che posso dirvi che le ultime cose che mi hanno detto è che comunque il Milan in queste ultime ore soprattutto diciamo stamattina ha dato un'apertura totale al prestito con obbligo anche se comunque vorrebbe offrire un po' di meno rispetto a quello che chiede il Chelsea l'obiettivo del Milan è quello di magari accettare anche l'obbligo o a determinate condizioni oppure proprio obbligo di riscatto però diciamo a 5 milioni di prestito è un massimo di 18-20 milioni per l'obbligo in questo momento il Chelsea chiede un po' di più vorrebbe 5 più 25 chiaro, 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 chiaro Giuseppe? Sì, sulla questione Zia, come diceva Sebola fondamentalmente è tutta da trovare la quadra sulla totalità della cifra nel senso sulla base del prestito sulla cifra del prestito ci siamo cioè sui 5 milioni l'obbligo che Milan sarebbe disposto ad inserire i rossoneri insomma la dirigenza vorrebbe che si aggirasse sui 20 quindi 25 totali mentre il Chelsea vorrebbe qualcosina di più per arrivare ai 30 insomma parliamo di sottigliezza la fin dei conti si farà, si farà, si farà è molto però io credo che sarà il primo acquisto ok, ok, ok appena c'è il tuo viaggio appena c'è il tuo viaggio da Milanello avvisoci che lo faccia a mantenere eh ma mi hanno detto che stanno sotto probabilmente vedi un po' non lo so c'è chi sono qua no, già c'era ci sono delle persone collegate però che adesso tra l'altro si sono discollegate però non si vedevano bene probabilmente ci sono tanti telefonini prova a scrivere giustamente Stefano mi ha fatto sapere che era in mezzo alla curva e non prendeva niente a girare delle immagini non prendeva niente mentre invece adesso li stanno facendo entrare in conferenza stampa mi piace questo spunto qua la faremo ragazzi magari sì, anche perché sono usciti voglio dire i prezzi dei diritti tv premia le serie A come al solito c'è un dislivello e quindi che altro posso aggiungere una cosa non è una casualità il fatto che secondo me Ziyech sia molto vicino va fondamentalmente a confermare la questione che il riscatto di Messias non è ancora ufficiale a differenza di quello di Florenzi fondamentalmente la cifra che dovrebbe essere spesa per riscattare ufficialmente Messias sarebbe la cifra reinvestita per il prestito di Ziyech sì, sì, tu credi che se entra uno esce l'altro? o alla fine dei conti o comunque riscattano Messias perché alla fine dei conti se arriva Ziyech se viene riscattato Messias e poi sono tre in quella posizione però è anche vero che la vedo molto difficile che rimangano entrambi i mancini credo che per una varietà di anche a livello tattico di soluzioni tattiche sia molto più utile avere un mancino e un destro per avere diverse soluzioni poi vi dico la mia secondo me Messias è come panchinaro e tanta roba siccome ha fatto benissimo l'anno scorso come panchinaro sono opinioni ma io sì, come panchinaro eccolo qua dovrebbe essere questo ragazzo che si chiama Ale giusto? però vedi che è il nostro è il nostro Alessandro magari di spostarsi appena perché proprio non prova lì a dire magari di defilarsi vado, vado magari perché sarebbe bello parto in missione vado in missione allora Giudella vi ho aspettato un attimo sappi che ti ho mandato il link in privato su Twitch so che ho una puttanata però io nella merda ci navigo sempre con piacere quindi voglio vedere a che livello arriviamo nel frattempo buon 4 luglio a tutti gli americani che ci ascoltano che so che siete anche oltre lo cielo ti piace tutta questa cosa del 4 luglio dobbiamo continuare a stupirci per poter stupire gli altri cosa vogliono dire queste parole di Pioli grande Pioli grande Pioli mai mai scontato voglio dire no no veramente perché poi ci sono anche quelle di Maldini che ha detto sarà un campionato diviso in due dal mondiale sì sono due riflessioni sì sono due riflessioni secondo me interessanti Pioli ha detto dimentichiamoci questa la stagione passata perché non partiamo da 80 passapunti ma da zero come tutti gli altri e questo sarà importante ha detto che si sono sentiti e tenuti in contatto anche con i giocatori l'entusiasmo è rimasto molto alto hanno fatto gruppo anche durante l'estate però chiaramente adesso bisogna ripartire per trasformare in normalità la vittoria cosa non semplice però per tornare i fasti di un tempo bisogna farlo e dall'altra parte certo ci sarà una stagione divisa in due con una ventina di partite prima del mondiale e poi dopo una lunga pausa e quindi secondo me anche la preparazione fisica sarà molto ma molto diversa le squadre cercheranno di partire molto forte metto ti posso fare una domanda è ovviamente aperta ma voi milanisti visto come sta prendendo forma la Juve e questa Inter mentre il Milan oggi sul mercato sicuramente il campione d'Italia però si è mosso diciamo in maniera un po' più non ancora così profonda oggi è stato presentato anche Bellanova all'Inter oggi ci sono le visite di Bellanova forse poi si collegherà a Guarro proprio da lì vai vai no mi faccia finire la mia domanda ma voi pensate veramente perché ho detto qualcuno quest'anno rivinciamo il campionato con l'infradito che il Milan a oggi sia pronto per affrontare Juve e Inter in una perché poi anche in panchina il Milan ragazzi a seconde linee a centrocampo non è messo ancora benissimo cioè mancano il Milan deve ancora costruire tutto il suo mercato al di là dei rientri di Pobega dell'acquisto di Adli comunque deve ancora sostituire Romagnoli che dovrebbe ha perso che sì giustamente ha perso che sì e bisogna sostituirlo e comunque sulla tre quarti abbiamo sempre detto che il tallone Achille del Milan era quello pochi gol e pochi giocatori in grado di saltare l'uomo e creare superiorità numerica quindi sulla tre quarti il Milan deve fare tanto è un mercato tutto da costruire io mi aspetto comunque 10-15 giorni molto intensi molto caldi per il Milan con la possibilità di chiudere magari trattative già impostate e di sfruttare qualche occasione che è saltata fuori all'ultimo come abbiamo raccontato quella di Ziyech che è quello sicuramente più vicino De Ketler abbiamo detto che piace molto ma in questo momento costa 30 milioni di euro e vuol dire spendere gran parte del proprio budget quindi però sembra essere l'obiettivo di Maldini quello un po' è un giocatore ti dico la verità non pronto ancora da formare però è un giocatore con un potenziale veramente notevole il Milan però deve mettere dei tasselli penso che possa essere De Ketler magari la ciliegina sulla torta magari un po' più in là nel tempo magari anche grazie a qualche eccessione oggi se non mi sbaglio è arrivata quella dall'Atalanta dall'Atalanta al Monza di Pessina però in prestito e quindi il Milan vanta una percentuale sulla vendita di Pessina potrebbe incassare addirittura anche tra i 5 e i 7 milioni e mezzo però è una cessione differita per cui potrebbe non avere a disposizione subito quei soldi Adelica è stato provato trequartista oggi se non è sì sì Adelica è vero come dicono in chat che l'anno scorso non ha fatto un gran campionato no ha fatto un buonissimo campionato la squadra non è andata bene però un po' come Tonali al Brescia sì sì beh a essere onesti diciamo che si è visto meno di come si era visto Tonali al Brescia che era sembrato l'unico diciamo degno di quella squadra lì invece Adelica non è che abbia fatto chissà che l'anno scorso ha fatto un po' di aspe statisticamente non è andato effettivamente no beh però comunque ha fatto una buona stagione sicuramente ha fatto meno rispetto a quanto quando è stato preso dal Milan il Milan l'ha preso l'ha lasciato in prestito e chiaramente lì qualcosa ha perso però secondo me questo vuol dire abbastanza poco chiaro 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 no più che altro volevo sapere da Giuseppe se Ale si era riuscito a collegare ma stanno mi hanno detto che stanno sempre sotto stanno sotto vediamo se riusciamo no no guarda ce li ho qua ma sono sempre così purtroppo ragazzi eh ma finché non mettono il 5G allora c'è una domanda rivolta a tutti dicono se secondo voi Ziyech secondo voi farà la differenza in questo Milan ammesso e non concesso che sia l'obiettivo e che venga che sia l'obiettivo è fuori discussione la questione può fare la differenza allora negli ultimi anni si è notato come i giocatori prevenienti dalla Premier abituati magari ad una competitività maggiore anche ad un tasso del campionato maggiore vengano in Italia ed effettivamente se non proprio che fanno la differenza ma comunque sia fanno una stagione molto buona vedi Abraham vedi Tomori anche lo stesso Lukaku quando arrivò all'Inter due anni fa Ziyech che ben aveva impressionato con l'Ajax non è che abbia fatto sto gran che a Chelsea è arrivato per 40 milioni non ha non ha fatto gol in finale raga no gol in finale l'ha fatto il tedesco Averc anche i Averc no però ha deciso un'altra competizione no però che ha fatto quel gol forse in semifinale che ha fatto quel gol di Gianluro forse in Supercoppa eh il tiragiro se non ero in Supercoppa in Supercoppa ha deciso la Supercoppa ero prima se non ero ok si è inizio stagione però si dite l'inizio stagione l'ha fatto molto bene poi è stato un po' messo da parte e secondo me in qualche modo si è anche un po' pentito no di non aver accettato la Corte del Milan non aver spinto l'anno scorso per venire a Milan perché era un obiettivo anche l'anno scorso e quindi aperte le porte di un prestito da parte del Chelsea la valutazione del Chelsea l'anno scorso era sui 40 milioni oggi è già più bassa è un Chelsea che evidentemente è destinato a voglia di liberarsi di quei giocatori che forse non rientrano nel progetto e farlo in fretta e quindi quest'anno è sicuramente un obiettivo Seba due domande al volo allora nomi per il centrocampo alternativi Seba c'è qualche nome guarda piace molto per quanto riguarda i mediani piace molto Douglas Luiz però non sono state ancora presentate offerte ufficiali e per tra l'altro per le cessioni Maldini vorrebbe diciamo piazzare suo figlio diciamo per farlo crescere quindi vorrebbe piazzare Daniel è molto interessato in questo momento sia le squadre comunque ne ho promosse ma risulta anche un interesse forte del Verona Lang e Dybala che poi dobbiamo andare sulle altre guarda guarda come dicevamo l'unica trattativa in corso è quella per quella per Ziek nonostante questo comunque ma perché allora c'è tutte queste voci Dybala a Milan scusa se non c'è niente ci sono tutte queste voci io l'unica diciamo riscontro che ho avuto su Dybala quando mi hanno detto sì il Milan ha contattato Dybala Dybala era prima della cessione societaria perché comunque Maldini non era non sapeva ancora non era a conoscenza del budget quindi stavo informando su più fronti quindi lo fanno per vendere i giornali come dico in chat guarda oggi quando chiedono quando chiedo mi dicono comunque l'ha già contattato quindi probabile che qualora diciamo abbassassero le pretese possa arrivare un'offerta è un'offerta che a differenza di quello che si scrive a meno risultato oggi è ancora arrivata quell'offerta di 4 milioni di cui si parlava a me purtroppo non risulta è un'offerta